A me, quando con Andrea Milluzzi e gli altri autori del programma ci siamo messi lì a capire come raccontare questa cosa, abbiamo detto mettiamo in fila quali sono le competenze e le persone che se ne occupano. Beh io sono rimasto sconcertato, perché il generale Paolo Figliolo è commissario straordinario per la ricostruzione, ma di che cosa? Dal 27 giugno 2003, questo per uno dei primi fatti. Poi c'è Irene Priolo che è vicepresidente della regione di Milano Magna che è commissario per l'alluvione, ma dal 22 settembre del 2024, questo solo per citare alcuni vertici. Poi c'è leggi e competenze, competenze su fiumi e fossi, regione, si dividono diciamo così, attenzione sono dentro anche i torrenti, leggi e risorse, se ne occupa lo Stato con un reggio decreto del 1904, operatività tecnica, concorsi di bonifica, divisi a loro volta per settore, supervisione, c'è il genio civile, prima regionale e poi nazionale, non è finita. Se gli argini sono anche strade, c'è una co-competenza che va divisa con l'ANAS. Se vicino ci sono le ferrovie, la co-competenza è delle ferrovie dello Stato. terreno privato, entro tre mesi deve comunque concordare intervento, sindaci, ma insomma è una roba incredibile. Non bastano tre schermi per raccontare con tutte queste competenze, tutte queste persone, eppure l'immagine è quella lì. Sbaglio qualcosa? No, è un elenco puntuale di quello che oggi la frammentazione della gestione del territorio porta il territorio a non essere assolutamente gestito. E questo è uno dei problemi che dovrebbe essere la priorità di qualunque governo, lo dico dal punto di vista indipendentemente dalla collocazione politica. La questione della gestione del territorio non è una priorità, è stata fatta ad esempio l'autonomia differenziata che parcellizza ulteriormente le competenze, ma la vera e grande questione che oggi noi abbiamo di fronte è come gestiamo il territorio, semplifichiamo e eliminiamo delle competenze anche con enti che a volte sono inutili, che si sovrappongono tra di loro. Poi di che ci sono due questioni. Il primo è come noi diamo una risposta all'emergenza perché è un problema serio, perché le persone quando piove in certi territori vivono uno stato di ansietà e di paura. Penso che debba esserci un'iniziativa molto forte che faccia spendere le risorse che sono disponibili. Non è che non servano nuove leggi, diciamolo chiaramente, io non lo so. Serve un elemento di... Una legge io la vedo, è come se la vedo. Perché in questo paese non è possibile che il consumo di suolo viaggia a quasi 3 metri quadri al secondo e che si costruisca in area di rischio idrogeologico e che si costruisca in fiumi tombati dove persone nemmeno sanno di aver comprato la casa in un fiume che è tombato. Cioè noi dobbiamo recuperare una prospettiva diversa nel nostro paese. Ma mi rendo conto che quello che dico sono parole. Il punto che dovrebbe essere anche che da parte del governo, e lo dico non perché al governo c'è Giorgia Meloni, lo dico il governo come entità statuale, diciamo neutra, che ha una funzione, deve capire che questa è la priorità della priorità. Stiamo parlando delle mie Romagna. In Calabria ci sono frane che hanno coinvolto interabitazioni. In Sicilia dalla siccità si è passata dalle alluvioni. e poi è chiaro che c'è una... Chico testa!